Ciao ragazzi, ben ritrovati al FCS Suttirol Podcast. Oggi ritorniamo in onda e abbiamo con noi un ospite speciale, abbiamo con noi il capitano del Suttirol, Fabian Tait, che ringraziamo per essere i nostri microfoni. Ciao Fabian. Grazie a voi e ciao a tutti. Allora, cominciamo questa nostra chiacchierata un po' così informale, anche per avvicinarci un po' ai tanti tifosi che seguono il Suttirol e naturalmente anche ti seguono, partendo magari da raccontare come inizia la giornata di Fabian Tait, cioè tu ti alzi la mattina e che succede poi da lì in una giornata normale? La giornata normale sveglia, colazione, sveglia verso le 8 e mezza, 9, proprio sono uno che gli piace dormire fino a un po' più tardi, colazione, poi esco con i cagnolini, io c'ho due cani, un Golden Retriever Dustin e un Bulldog francese Achille, andiamo a farci una passeggiata in paese, io abito a Salorno, vado a bere un caffè con il mio amico e poi prendo la macchina, arrivo al centro, verso le 11, 11 e mezza, poi mi cambio, a mezzogiorno c'è un pranzo, pranziamo qua tutti insieme, tutti i giorni, come di abitudine e poi verso le 2 iniziamo l'allenamento, prima un po' di attivazione, un po' di riscaldamento, un attimino, riscaldamento, poi le 2 c'è il discorso del mister parla alla squadra e poi inizia l'allenamento che dura di solito un'oretta e mezza, un'oretta e un quarto, più un'oretta e mezza col mister, però e poi niente, poi doccia, un po' di scarico e poi... Ma per quanto invece riguarda la parte tattica, c'è l'incontro col mister, comprende quella parte lì? L'incontro col mister, allora di solito gli allenamenti all'inizio della settimana sono più fisici, a livello fisico, cioè i primi giorni un po' più di corsa, poi un po' di forza, per tenere appunto la forma fisica, e poi verso fine settimana si punta più a preparare la partita degli avversari, cioè si guarda il video, si fa l'analisi tattica, si prepara la partita, si va a vedere come si va a pressare, come si si aspetta, dove si possono trovare gli spazi, cioè insomma si prepara un po' meglio la partita sul dettaglio. Poi una volta finito l'allenamento? Una volta finito l'allenamento c'è un po' di scarico, un po' di piscino, un po' di sauna, quello in base a quello che ti serve, e poi si prende una macchinina e si torna a casa, spesa, e classica serata tranquilla, niente di che. Ma sei tu che fai la spesa in famiglia quindi? Io faccio la spesa e cucino. Ah, sei anche il cuoco di famiglia. Sì, mi piace, devo dire la verità, mi piace anche tantissimo cucinare, mi metto lì anche a cucinare cose un po' complicate. Ma dai, possiamo chiederti il tuo cavallo di battaglia? Ma io sono un, mi piacciono fare i risotti, mi piace fare i risottini, e adesso in questo momento dai gli asparagi sono di stagione, quindi puntiamo sul risotto asparagi con un po' di guanciale, se ci volete, croccantino sopra, e poi potete far innamorare tutti. Potremmo aprire quasi un excursus culinario, cucina con Fabian Tagli. Per i secondi, non chiedetemi anche perché semplicità, pollo ai ferri e basta. Ma se c'è invece un piatto preferito oltre a quelli cui sei magari bravo a cucinare. Io sono amante della carbonara, vado pazzo per la carbonara. Grande classico. La pizza è troppo scontata, dai, pizza è buona sempre, però la carbonara fatta bene. Quindi se cercate una carbonara fatta bene, citofonare, Fabian Tagli. Anche quella, sì, quella purtroppo non posso farmela tutti i giorni, ogni tanto la faccio prima della partita, la carbonara. Ma dai, no, perché se vuoi poi ci sente il mister. No, la carbonara purtroppo non la faccio spesso, però quando mi capita la faccio fatta bene. Bella carica. Bella carica. Ma per quanto riguarda invece il regime alimentare, voi atleti, sicuramente avrete un occhio di riguardo, insomma. Assolutamente sì, anche perché il nostro fisico, noi lavoriamo col fisico e quindi dobbiamo stare attenti a quello che si mangia e si beve, quindi l'alimentazione c'è chi è seguito da uno nutrizionista e c'è chi bene o male, sono sempre il solito, dai, bisogna evitare logicamente gli zuccheri, il McDonald's e quelle robe lì, no, mangiare bene, insalata e pasta, condimenti, non troppi condimenti pesanti e poi la sera un po' di carne, carne bianca o uova e tanta verdura, insomma. Ma il mister vi lascia anche sgarrare ogni tanto, c'è quella volta che dice sì dai ragazzi, non so, magari anche dopo una partita che avete giocato particolarmente bene, si sente... Il mister è uno, su questo punto di vista, a lui non importa quello che fai a casa, cioè lui ti dice se a te mi porti la prestazione puoi anche mangiare le patatine fritte tutti i giorni, quindi per dire, no, adesso la esaspero proprio, però lui non è uno che ti viene a controllare, quindi lui basta che in campo poi pedali e quindi se devi pedalare avendo mangiato prima le patatine è un po' dura. No, ci credo, ma invece ti chiedo, la giornata del pre-partita, come viene preparata, cioè ha la stessa routine o cambia qualcosina immagino? Cambia perché è una giornata un po' particolare, nel senso c'è un po' l'adrenalina, c'è un po' la tensione è pre-partita, ci si sveglia, si fa una colazione, poi la passeggiata con i cani... Quella è un must. Quella la si fa, ma non troppo lunga, cioè giusto per sogliere un po' le gambe e poi si viene qua, si mangia tutti insieme, però a pranzo di solito c'è un po' di casino, si parla, si scherza, il pre-partita c'è un silenzio tombale che non vola la mosca, c'è, e quindi è diverso perché c'è comunque la concentrazione, c'è un mix di tensione, c'è un po' tutto, quindi è una giornata un po' speciale che sono cose belle da vivere insomma. Sì, viene preparata con attenzione e molta anche concentrazione quindi. Soprattutto concentrazione perché se non c'è la concentrazione puoi aver preparato quello che vuoi, però fai fatica. Adesso ti faccio una domanda magari un po' tecnica, rispetto alla serie C, quanto cambia? Magari tu puoi dirmi anche che non è cambiato nulla perché noi eravamo già con quella mentalità lì, ma il passaggio di serie, quanto ha cambiato? Ma cambia tutto insomma, c'è il tecnico, c'è molto più tecnica, c'è più fisicità, c'è più, poi vai a giocare in stadi importanti, quindi c'è anche un po' più pressione, c'è tanto pubblico, l'atmosfera diversa, è cambiato un po' tutto, noi internamente nella squadra abbiamo cercato di portare avanti quello che si sta costruendo da tanti anni, la mentalità che stiamo costruendo da tanti anni che ci ha portato veramente lontano e ci siamo riusciti anche quest'anno perché la nostra mentalità non deve mai mancare che è quella del lavoro, del sacrificio e dell'umiltà e quindi senza quella non si va da nessuna parte purtroppo o per fortuna. Assolutamente, e questo passaggio insomma vi ha portato anche ad interfacciarvi con altre realtà, insomma si passa dei microfoni importanti, Sky, si passa in televisione, insomma anche la propria voce ha un altro effetto, quindi com'è stato questo passaggio a passare insomma anche a livello di visibilità in questo senso? Ma lì è cambiato il mondo, cioè lì è cambiato totalmente tutto perché gli anni passati su Sky, The Zone non si giocava mai, insomma quest'anno tutte le partite vengono trasmesse in quei canali lì, quindi tutti a casa vedono la partita, come l'anno scorso c'era qualcuno che guardava la partita, però quest'anno la vedono tutti, quindi tutti sanno quello che hai fatto, tutti vedono le tue interviste, tutti si informano cosa fai, tutti guardano se hai fatto bene o se non hai fatto male, quindi sotto quel punto di vista è cambiato veramente tutto, poi si è creato un entusiasmo intorno alla squadra quest'anno impressionante, si è visto anche lunedì contro il Genoa a stadio pieno e tanto entusiasmo, i tifosi ti acclamano, i tifosi ti aspettano dopo la partita, vogliono un autografo, vogliono una foto, è cambiato totalmente tutto intorno alla squadra e penso che sia meritato, ce lo siamo meritati noi e ce lo è meritato la società che da anni sta facendo le cose fatte bene. Assolutamente, e com'è stato portare a casa il successo, il passaggio, la festa, l'euforia e poi anche la consapevolezza di doversi rimettere al lavoro per cercare di mantenere il livello. Ah beh, questo è il calcio, il calcio non puoi mai festeggiare abbastanza perché il giorno dopo c'è esempio di un'altra partita, cioè tu puoi vincere la partita, il giorno dopo perdi la partita e sei di nuovo scarso, così il calcio è questo, oggi sei forte, domani sei scarso, domani sei forte, domani sei scarso, quindi cambia tutto, è stato fantastico e poi l'anno scorso abbiamo vinto un campionato, abbiamo fatto un campionato straordinario, 90 punti, 9 gol subiti, record europeo della difesa, quindi è stato spettacolare, però sono contento che siamo riusciti a portare, anche se è stato cambiato tanto quest'anno siamo riusciti a portare avanti la mentalità e il credo nostro anche quest'anno e si vedono anche risultati. No, ma infatti c'è da dire che magari ad inizio stagione, corregimi poi se sbaglio, le aspettative erano ok ragazzi cerchiamo di portare a casa una stagione ottima, rimaniamo in Serie B e invece c'è stato, si può dire, un explosion magari anche inaspettato, magari voi all'interno dei vostri mezzi, all'interno dello spogliatoio sapevate il vostro valore, ma al di fuori insomma per tanti è stata un po' una sorpresa. Ma penso che è stata anche una sorpresa per noi, devo essere sincero, non se lo aspettava nessuno, all'inizio del campionato qualcuno mi avesse detto l'ultima tre giornate siete quarti e vi giocate i playoff, io avrei detto sei pazzo, con vedendo tutte le squadre che ci sono, quindi è stata una cosa inaspettata, però penso che sono le cose belle della vita quando succede queste cose inaspettate e soprattutto gli altri non credono in te, quindi quest'anno ci sono state tante persone che non hanno creduto in noi e questo poi è il bello, perché poi ti ricordi le frasi dette, le parole dette e adesso ti giri e dici ecco ti guardo guardi qua gli underdogs, e invece la responsabilità di essere il capitano, tu hai editato la fascia da Hannes Finch, tuo grande amico e fra poco speriamo tu possa anche magari andare a scavalcarlo come presenza all'interno appunto dello Sud Tirol, e com'è stato un po' questo passaggio di consegne e avere la responsabilità insomma della fascia al braccio? Ma è una fascia pesante, perché Hannes, io sono arrivato 8 anni fa e lui c'era già qua, lui è qua da 20 anni ormai e oltre ad essere un giocatore forte è una persona fantastica, a noi ha dato tanto, ha dato tantissimo al gruppo, è stato un esempio tutti gli anni soprattutto anche l'anno scorso, ha dato tanto questa maglia, è stato un esempio e quindi è una fascia molto molto pesante, io l'anno scorso quando ha dato l'addio al calcio mi mi sono messo a piangere perché lui me l'ha detto personalmente, perché mi dispiace lo conosco da 8 anni, abbiamo passato tantissimo insieme, dai dolori alle gioie e poi siamo riusciti a raggiungere quello che abbiamo sempre voluto e adesso io sono contento che comunque è rimasto in società, che riesce a darci la mano ed è sempre presente. Poi so che all'interno dello spogliatoio, oltre a Hannes, a tanti naturalmente gli altri ragazzi della squadra, hai un legame un po' particolare con Jack Poluzzi, sappiamo che vi ci sei fatto un tatuaggio poi dopo aver vinto il campionato. Io con Jack l'ho conosciuto il primo giorno, lui è arrivato da Vila Franca, Franca Villa scusa, Franca Villa in Puglia giocava lui, il primo giorno è venuto e Emiliano, il team manager mi fa guarda Fabian, c'è giù in albergo a Salone, un ragazzo nuovo, io l'ho chiamato subito, gli ho detto dammi il numero che lo chiamo e l'ho invitato a mangiare la pizza ed è stato amore a prima vista, ci siamo conosciuti, abbiamo un sacco di cose in comune, la pensiamo su tutto uguale, basta che ci guardiamo ci capiamo, su tutto abbiamo la stessa opinione, c'è proprio quasi su tutto, quindi è un amico, è un amico, nel calcio si trovano tanti colleghi ma pochi amici e lui è veramente un amico con la maiuscola e l'anno scorso noi siamo sempre in camera insieme trasferta e l'anno scorso nella cavalcata e durante la cavalcata abbiamo fatto una scommessa, abbiamo detto se vinciamo il campionato ci tatuiamo uno squalo con la data perché Jack dice sempre bisogna essere affamati come squali, no? Allora abbiamo preso un po' come battuta, come il nostro inno e quindi ci siamo tatuati questo squalo, io sul polpaccio e lui ce l'ha sul braccio. No infatti mi hai anticipato la domanda, infatti volevo proprio chiederti ma è con Poluzzi che sta in camera in trasferta, come passate il tempo nel pre partita o nel post partita insomma? Ma... Avete qualche rito? No, alla fine parliamo, chiacchieriamo sempre, cioè parliamo veramente tanto, abbiamo un dialogo veramente importante, io Jack e poi la mattina io mi guardo un po' di video sul telefono, lui si gioca magari un po' a carte, ognuno si concentra a modo suo insomma e poi ormai basta guardarci e capiamo, ci capiamo io e Jack quindi... L'altro giorno passando proprio qui nel centro e con Manuel che salutiamo che è qui con noi, che coordina tutta la puntata, ci diceva che quest'anno va molto di moda la briscola all'interno del gruppo, che siete abbastanza presi con la briscola. Allora, tanti anni fa ce la giocavamo a Watten perché eravamo più altottesini, no? Ah certo! E quindi adesso mi ha ammollato tutti, non c'è nessuno che sa giocare a Watten e giocano tutti a briscola, tanti a briscola giocano a briscola a punti, non so, io non so come funziona, non so neanche giocarci, so che è simile al Watten però dopo pranzo, prima del pranzo si mettono lì a giocare per passare un po' il tempo. Ma invece il mondo dei videogiochi, passando dalla briscola a qualcosa di un po' più tecnologico, sei un nerd, passami il termine? No, adesso non più, io quando c'era il Covid logicamente non si poteva fare niente, pure il cane mio dopo un po' mi ha detto basta portarmi fuori, c'è una bella foto dove ci sono i cani sopra le cucine, era quasi uguale, ho detto basta, non ce la faccio più. E mi sono dato un po' la Playstation, giocavo a Call of Duty con i miei amici, compagni di squadra e lì ho conosciuto anche tanti ragazzi calciatori che poi ho trovato contro nei campi e quindi è stato un periodo difficile però penso che mi ha tenuto tanta compagnia, poi adesso motivi di tempo non c'ho più, cioè non c'ho più tempo di giocarci. Ma c'era qualcuno particolarmente bravo con cui magari facevate qualche scommessa tra virgolette? Sì sì, c'era Morosini, Tommaso Morosini, giocava spessissimo con lui e poi vabbè i vari Gerardi, Mazzocchi e c'erano un po' tutti che giocavano, perché era il periodo che ci giocavano tutti, anche se dalla Serie A si sapeva che giocavano un sacco di giocatori, giocavano tutti a Call of Duty e quindi andava di moda logicamente il periodo un po' strano. FIFA invece no? No, FIFA no. No, perché volevo chiederti, visto che so che sei anche un grande tifoso dell'Inter, ma se non dovessi prendere in un'ipotetica partita FIFA il su Tirol, andresti a mani basse sull'Inter o c'è qualche squadra che ti piacerebbe giocare a livello di videogiochi, così non mettiamo in preoccupazione? Tutta la vita l'Inter, il cuore non si comanda, l'Inter è l'Inter e quindi sempre forza Inter. Ma se dovessi chiederti un pronostico adesso, visto che manca poco... Sulla Champions League o su di noi? No, ma su di voi diciamo che non voglio essere quello che porta Iella, quindi essendo magari qualcuno scaramantico all'interno dello spogliatoio, lasciamo le cose come stanno, invece per quanto riguarda campionato e Champions, voglio sentire un po' cosa ne pensi, come le vedi le squadre in lotta? Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria quest'anno, penso meritatissimo, ha fatto una cosa impressionante, giocavano, era veramente un piacere per ogni amante di calcio vedere il Napoli quest'anno e quindi adesso l'Inter ha fatto un po' fatica in campionato, però ci sta, sono periodi, secondo me l'Inter è la squadra più forte del campionato, secondo me ha nomi, però poi vedi ben tante volte non basta quello. Io spero che l'Inter si qualifichi in Champions, ancora c'ha grosse possibilità, se non voglio neanche io fare il... No, no, certo, mi sto toccando, non mi vedete, ma mi sto toccando. E in Champions è una bella sfida, un derby di Milano, finalmente di nuovo dopo tanti anni, poi la finale sarà dura per entrambi. Mettiamo che passi l'Inter, facciamo questo scenario ipotetico, l'Inter passa, va in finale, contro chi la vedi meglio? Contro un Real o contro un Manchester? Male, è uguale, sono tutti due forti, però in finale vinciamo noi 2-0. Capito, cari ascoltatori, segnatevelo tight dalle quote oggi. Invece, torniamo invece alla vostra realtà, io so che tu sei un grandissimo appassionato di musica, sei un musicista, suoni non uno ma tre strumenti. Sì, allora, suonavo nella banda musicale di Salorno, il corno. Però, che è uno strumento comunque non particolarmente famoso, insomma. No, sì, di solito, mio papà ha sempre suonato nella banda, mio fratello ha fatto un po' il conservatorio, adesso fa il professore di musica a Monaco e quindi siamo sempre stati dei musicisti. Io mi sono appassionato al corno, che non so se avete presente quello rotondo, piccolino, no? E poi, purtroppo, non avevo più tempo dovevo scegliere tra calcio e banda, io sento logicamente il calcio. Però poi ho continuato la musica, perché è la musica mia passione, ho imparato la chitarra a suonare, suonare la chitarra da solo. Anzi, se avete bisogno nei matrimoni, chiamatemi, il mio numero è 3-4 di maschera. E poi un po' il pianoforte, però il pianoforte è un po' più complesso come strumento, ci vuole un po' più pazienza. Adesso è un po', diciamo, mollato, mi punto, già giusto ieri mi sono messo lì la sera, suono un po' la chitarra, mi diverte, mi piace un sacco. E mi rilassa tranquillo, e rilassa anche i miei cani, perché si mettono a dormire. Non so se è un bene o un male. No, ma è vera questa cosa, dunque, che ai matrimoni ti fanno lavorare, cioè sei l'unico che lavora. Quando ti invita nei matrimoni, tu lavori. È successo, una volta, un matrimonio di Hannes Fink, che praticamente c'era questo one-man show, come si dice, che suonava la chitarra, e poi lui si è preso una piccola pausa, c'era un mio amico che mi ha detto, dai, dai, suona tu, suona tu, suona tu. Allora mi sono messo sul palco e ho suonato 4-5 canzoni che mi ricordavo, e ho visto che tutti erano contenti, si sono messi a cantare. Allora, io ti dico una cosa, se dovessi scegliere, la domanda è, piuttosto Messi o Cristiano Ronaldo o Ed Sheeran? Tutta la vita Ed Sheeran. Cioè, mi piacerebbe più diventare un cantante, andare sul palco, portare la mia musica, vedere tutti cantare la mia musica, cioè quello penso che sia una cosa fantastica. Cioè, quindi tra una partita con Messi o Ronaldo o un duetto con Ed Sheeran, Ed Sheeran tutta la vita. Caspita, non l'avrei detto. Sì, sì, tutta la vita. Quindi diciamo che anche a livello di gusto musicale sei da quella... Sì, a me piace tutto. Mi piace il pop, rock, anche il rock mi piace tantissimo. Mi piace un po' meno l'house, l'elettro, quelle robe... Che è un po' più elettroniche magari. Mi piace più, vabbè, l'acustica, il piano. E poi mi piace anche, non so se conoscete Hans Zimmer, che a livello orchestra è film di musica. Tra l'altro adesso quest'anno la mia ragazza mi ha regalato il concerto ad Amsterdam, tempo permettendo se riusciamo a andarci, di Hans Zimmer, quindi non vedo l'ora di andarci perché è stato uno dei miei... Ho sempre detto prima di voglio vedere tre concerti, Coldplay, Ed Sheeran e Hans Zimmer. Uno sono riuscito, il secondo sto andando, mi mancano i Coldplay che purtroppo adesso hanno un po'... Scombussolate un po' le date. Esatto, e quindi dai, siamo a buon punto, però spero che non succeda che si vada a vedere Twitter. No, no, speriamo assolutamente di no. Quindi aspetto i colpi e aspetto 80-90 anni. Sì, sì, con calma. E invece sappiamo che questa tua grande passione arriva anche un po' allo stadio, perché sei uno degli artefici della playlist che viene poi messa all'interno del Drus di Bolzano. Eh, Manuel lo sa molto bene che tante volte mi lamento con... No, scherzo, partisco. Sì, perché penso che la musica ti porta tanto nella vita, la musica ti rilassa, la musica ti carica, la musica è tutto, dai, cioè senza musica la vita... Cioè, immaginatevi, ci sono adesso dei video su Instagram o dei video su YouTube che si vede che magari ci sono delle scene di film piuttosto che con un'altra musica. Con la musica cambiata. o dei balletti senza musica e ti cambia totalmente tutto lo scenario, ti cambia tutto, no? Quindi la musica è proprio l'essenza della vita, secondo me. Quindi quando c'hai quella canzone giusto che ti carica, ti porta tanto, no? Cioè, io penso che per i maratonetti, o non so per chi sia vietato ascoltare la musica, è vietato, è vietato. Perché ti porta... Anche perché il BPM ti aiuta a correre più veloce. Esatto, e quindi è questo, la musica ti aiuta. C'è una canzone che ami, così poi gli amici a casa possono andare ad ascoltarsela, magari, poi dopo aver ascoltato il podcast, una canzone che dici, caspita, quando sento questo pezzo mi carico a mille e sono pronto per la partita. Io e Jack abbiamo la nostra canzone che è Country Roads. Ah, certo. Il remix, quello un po' più spinto. E quella è la nostra canzone. Cioè, quando parte quella ci illuminiamo tutti. Ma ormai è passato un po' in tutta la squadra. È bello, è bello, molto bello. Diciamola allora al DJ la prossima settimana. che è quando dimetterla magari all'intervallo. Chissà, chissà. Parlavi di social invece. Com'è il tuo rapporto con i social? Li segui particolarmente? Sì, sì. Devo essere sincero, seguo. Posto, sono anche molto attivo. Mi passo il tempo, perché mi piace sempre guardarmi video divertenti. Ci scambiamo un sacco di video divertenti su Instagram, eccetera. Poi leggo anche tante cose di calcio, vedo tante altre squadre pubblicano. Secondo me è un bel mondo. Logicamente bisogna sempre stare attenti dal troppo, no? Come logicamente il troppo fa male in tutto. e quindi anche quello noi bisogna stare un po' attenti e anche allontanarsi certe volte. Tante volte purtroppo su Instagram e Facebook può scrivere chiunque. Cioè il problema di Facebook è che ognuno può dire la sua. Per me, e secondo me è un problema tante volte, quindi bisognerebbe tante volte non leggere certe cose. E questo è un po' il tuo consiglio per quelli che magari scrivono le cavolate. Assolutamente sì, ma perché ce n'è tante di cattiveria, ne leggi ogni giorno, gente che critica, gente che insulta, gente proprio gratuiti, no? Ed è il problema quello che ognuno può scrivere quello che vuole e tante volte lo scrivono sotto altro nome perché non hanno il coraggio di metterci la faccia. Quindi bisogna tante volte non leggere o addirittura cancellare. Vogliamo dire qual è il tuo tag Instagram, visto che hai anche la spunta certificata, la spunta blu? Come mi chiamo? Sì, è così. Fabian Tide, mi pare. Fabian Tide è normale, è proprio semplice, semplice. E così invitiamo i nostri amici che ti stanno ascoltando ad andare a Fabian Tide. Ecco, adesso metto il profilo privato. TikTok invece ti sei mai avvicinato a questo mondo ancora? No, vedo ogni tanto dei video dove magari esce il video quello un po' più famoso, quello del momento, e vedo lì però TikTok, no, c'è solo Instagram e ogni tanto apro Facebook perché Manuel mi dice di mettere like sulle sue pagine. C'è qualcuno all'interno della squadra che invece magari ci tiene particolarmente, che cura con magari più attenzione? Ma no, così tanto, Poluzzi è il più attivo, dai. Poluzzi è il più attivo sui social, però c'è il fratello di sua moglie che gli dà una mano sui social, che gli dà una mano, che gli fa i post, e quindi è quello più attivo, è l'unico che c'ha... Noi dobbiamo aspettare le foto della partita due giorni e lui è l'unico che ce l'ha dopo dieci minuti dopo la partita. L'è in anteprima. Quindi probabilmente già quando le fa gli le manda. Agli agganci, agli agganci. Bene, invece sappiamo anche che tu hai un fratello gemello. E mai capitato di passeggiare o che lui ti racconti un episodio? Ma sai che mi hanno detto, ma tu assomigli tanto, o sei proprio tu Fabio? Purtroppo, dico purtroppo, siamo diversi. Purtroppo è per fortuna, il purtroppo perché così quando andavamo a scuola potevamo scambiarci, perché lui era più bravo nelle lingue, io magari un po' più bravo nelle matematiche, così potevamo scambiarci. Purtroppo ho avuto sempre quella sfiga che è l'opposto di me. Cioè quindi io sono biondo e lui è moro. E quindi già questo... Cioè se ci vedi non penseresti mai che siamo gemelli, quindi anche di carattere siamo anche molto diversi. Beh, ci sta, insomma. È bello di avere un fratello con cui poi tu chiacchiere e avere anche qualcuno di un punto di vista diverso. Assolutamente sì, poi siamo cresciuti insieme, cioè anche con i miei fratelli, poi i miei fratelli e i miei fratelli e i miei fratelli. Diciamo che avevamo sempre compagnia, quindi quello è stato bello, giocavamo sempre insieme. E penso di poter anche dire che sono diventato bravo a giocare a calcio perché avevo sempre loro in casa, no? Cioè sul terrazzo non serviva a chi doveva chiamare l'amico, cioè c'erano loro, uscivamo sempre. A posto. Quindi avevamo tutti i giorni da fare un uno contro uno, un due contro uno. Quindi va un grande merito. E intanto le prendevo anche. Uh, questa è una bella rivelazione. Invece all'interno dello spogliatoio, puoi raccontarci magari qualche episodio un po' simpatico che capita? Magari c'è quello che ruba lo shampoo, quello che dimentica le ciabatte e le frega il vicino. Cioè, succedono un po' queste dinamiche da spogliatoio? Qualcosa che puoi raccontarci, naturalmente? Allora, quello del shampoo abbiamo tagliato la testa al toro dicendo che con il fondo cassa compriamo 50 shampoo, li mettiamo lì perché poi c'era il furbo sempre. Perché mi sono dimenticato lo shampoo, mi sono dimenticato lo shampoo. E poi dopo due mesi lo dimentichiamo sempre. Quindi a tagliare la testa del toro abbiamo detto, no dai, poi ci sono qui quelli un po' più scherziosi che fanno un po' gli scherzi. Sì, adesso in mente non mi viene in mente niente di particolare, però la spogliatoio è bella anche per quello, perché ci sono 25 test, 25 personalità diverse e poi c'è quello un po' più timido, c'è quello un po' più vivace. Beh, sì, è giusto come giusto che sia. Esatto, bello. Dai, invece nella squadra, se tu dovessi scegliere, diciamo, un tuo gruppetto per andare a giocare un calcio a 5, dovessi scegliere 5 giocatori, c'è 4 oltre a te, che devi portare dietro in un calcio a 5, magari sulla spiaggia in vacanza. Ma allora dipende per cosa? Per vincere o per divertire? Dai, 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 facciamo un po' e un po'. L'ultimo me lo porto sempre, calcio a 5. Perché il portiere deve esserci. Io mi escluderei perché io non mi farei mai giocare a calcio a 5. Ah, ok, quindi tu faresti. Facciamo che tu sei il tecnico. Io sto fuori. Poi mi prenderei un, vabbè, Masiellone, Zaro. Io faccio una bella difesa rucciosa. 2-1-2, dai. Masiello, Zaro. Poi in mezzo al campo butto Belardinelli e davanti metto Odogu, che mi fa una bella boa lì davanti. E che ci affianchiamo? E ci affianchiamo Casiraghi. Che poi ci divertiamo con Casiraghi. Tu in qualche intervista rilasciata tempo fa dicevi che Casiraghi è uno dei tuoi giocatori preferiti a livello tecnico. All'interno della squadra lo vedi come uno dei più forti da quel punto di vista. Zani è un leader tecnico. Tanti leader nei spogliatoio. C'è magari il leader che parla un po' di più, il leader che... Più silenzioso. E lui è uno di quelli silenziosi, esatto. Lui è uno, un leader tecnico, io lo chiamo, un leader in campo. Cioè lui è uno che trascina in campo. Lui ha tantissima personalità ed ha la sua forza. E poi c'è una tecnica pazzesca. Lui è arrivato, secondo me, tardi in Serie B. Non so per quale motivo. Cioè il calcio è strano, sotto questo punto di vista. Lui è arrivato tardi in Serie B e in Serie B ci sta veramente, secondo me, con la sigaretta. Quindi Dani è un giocatore importantissimo per noi, sia a livello umano che a livello tecnico. Ecco, così abbiamo fatto anche un piccolo quadro per mettere insieme anche Daniele Casiraghi che salutiamo, naturalmente. Prima di chiudere, prima di lasciarti andare, adesso, come capitano, all'interno del Sud Tirol, hai tantissimi eventi a cui tu partecipi, tante iniziative. Se vuoi ricordare magari qualcuna, visto che sappiamo che tu sei particolarmente attivo anche da questo punto di vista. Sì, sì, cioè, logicamente noi siamo una società fatta da tanti sponsor, da tanti soci, quindi logicamente bisogna andare a tanti eventi. Giustamente anche perché c'è bisogno anche di questo, fa parte del lavoro e noi ci andiamo molto, molto, molto volentieri perché poi ultimamente ci sono stati anche degli belli eventi. Cioè, mi ricordo la pediatria, un mesetto fa a Pasqua, portare dei doni ai bambini e quella è stata una cosa veramente importante, toccante. E poi ci sono più eventi dove bisogna passare a salutare gli sponsor, a salutare i tifosi. Quindi sono cose che fanno parte del gioco e qui è così, è giusto che sia così. E io, logicamente, tante volte non mi si riesce per impegni, però quando c'è tempo ci si va a stravolentieri. E chiudiamo con l'ultima domanda che ti faccio, Fabian. Un tuo sogno nel cassetto. Tolti i concerti di Hans Zimmer e Ray Coldplay. Ti prendo in contropiede io questa volta. Se c'è un sogno nel cassetto, di qualsiasi tipo, non per forza legato al mondo del pallone, un desiderio che vorresti realizzare, insomma, nella tua carriera. Ma guarda, io ti dico la verità. Io ho sempre sognato di vincere il campionato, quindi è già un sogno che si è realizzato. Poi io sogni e desideri non è che ne ho particolarmente, perché io mi sento già fortunato. Cioè, io mi sento già privilegiato a far questo lavoro, perché sono riuscito a far diventare il calcio il mio lavoro, è la mia passione, ero sempre desiderato da bambino e sono uno dei pochi fortunati che ci ha riuscito, perché logicamente se tu chiedi a un milione di bambini, un milione, forse non in milione, però forse due non vogliono fare calciatori, il resto vorrebbero fare tutti i calciatori. E ci sono riuscito, quindi mi sento molto una persona molto fortunata. Sono in salute, che anche quella è una cosa molto molto importante. Sono circondato da tante persone che mi vogliono bene e quindi spero che vada avanti questo. Così, insomma, logicamente poi ci saranno momenti difficili nella vita, cioè alti e bassi, però bisogna superarli, assolutamente. Belle, bellissime parole. Allora, Fabio, noi ti ringraziamo per essere stati ai nostri microfoni. Diamo l'appuntamento, naturalmente, alla prossima puntata di questo podcast. Ringraziamo il nostro Manuel per il supporto tecnico e per anche i suggerimenti sulle domande. e noi ci vediamo settimana prossima. Grazie Fabio. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.